I did all alright Had no need to fight Tonight Allora Vediamo dove ci droppiamo Minchia no sono troppo abituato ragazze a dropparmi su Warzone Oh no Oh no Avete visto quanto è bellino il mio paracadute Non è bello raga Ok questo è il mio dropp Minchia No ragazzi ma smira tantissimo Fate che lagga La stecca Credo scusa Non mi mira più C'è qualcuno qui Ah si comunque sono fatti molto bene Mamma mia Ragazzi ma c'è un lag anche ridibile È arrivato gambero Ma scusate un attimo no Gambero di Squalor Ammazza che track Scuola Grazie a tutti Oh mamma Mamma cansetta Ha chiuso la porta Grande Mica raga mi sta sul cazzo che viene a fare sta roba però Su one zone l'avrei già scopato questo Cambia l'arma Vai Vin Allora mi sa che Sono qua sopra Perché fa così Mamma mia Cambia l'arma È già mia raga Io contro un tipo Fammi dire che la safe è da lui che è impazzesco eh Non ci credo qua sopra No vabbè Dio santo Sempre l'ultimo Sempre Sempre l'ultimo Ma raga bellissimo Voglio fare un'altra Avevo una bella Cosa fa il coglione Mi volevo uccidere il Bruce Ragazzi voglio assolutamente Che Warzone duri anni Cioè anni poi Che duri tanto Che ci stiano dietro Perché ragazzi per adesso mi ha preso veramente un botte Guarda quanto è che è uscito Scusa Vi dico la verità mi sto divertendo Un botto Allora Da c'è un tipo Eh da lontano ragazzi Faccio veramente fatica Allora adesso non andiamo a prendere Qual è il problema Si è curato secondo voi? Ok Spressionante Quasi magistrale Adesso ragazzi trovo qualcuno In casa come ho fatto io prima Pazzesco Adrenalina No fly 54 su 100 Come si fa madonna E' sparito Niente questo mi ucciderà raga Lo sapete vero Questa mi killa Era qui Ragazzi Comunque super Cioè alla fine è chill Perché la gente è scherza ragazzi Veramente male Anche con le dita ragazzi Ho fatto 10 kill il primo game Però su telefono Lo impugnavo meglio il telefono E che i passi sono fortissimi raga Sono fatti male di Warzone Ragazzi un gruppo deve essere una figata Per questo gioco Cioè cosa sta facendo questo Cioè cosa sta facendo questo The safe zone is collapsing Air drop has been delivered Chip terminal Is almost ready Cosa ha fatto? Sì però ragazzi non ho capito una cosa Perché muoiono tutti così presto? Cioè per quale motivo è insta morto quello lì? Secondo me là dentro ragazzi si deve muovere Mamma mia da lontano ragazzi sono veramente Il bot finale Ho vinto Andiamo a prima win ragazzi Yes Che i tuoi piani siano oscuri E impenetrabili come la notte E quando ti muovi colpisci con la forza di una folgore Mamma mia ragazzi Sono il boss finale dei bot finali Comunque ragazzi se vi piace lo continuo a portare Grazie a me quindi porterò Sicuramente lo continuerò a portare Non più di Warzone ragazzi Sopporto Grazie a tutti Grazie a tutti